È partito un licenziamento di una dipendente dopo che a fronte di incontri trattative c'era stato sempre assicurato che non c'era nessuna intenzione di toccare il personale. Invece così non è stato. Una dipendente assunta da 25 anni come segretaria alla Fondazione Cini è stata lasciata a casa senza una vera e propria motivazione e ora si trova senza un lavoro, con un marito invalido, un figlio malato e un mutuo da pagare. Ma i sindacati non ci stanno, soprattutto perché sono convinti che questo sia solo l'inizio. Noi abbiamo il timore che questo licenziamento sia il primo di una riorganizzazione del personale e vogliamo avere delle chiarificazioni da parte dell'azienda, della Fondazione. Vogliamo capire se è in atto un piano più allargato di riorganizzazione del personale e soprattutto vogliamo capire il piano di rilancio della Fondazione, se è vero che ci sono dei problemi economici per cui sono costretti a lasciare a casa in questo momento una lavoratrice. Di qui l'appello al Patriarca di Venezia che fa parte del Consiglio della Fondazione e secondo i sindacati non è al corrente di ciò che sta realmente accadendo. Secondo noi non sa assolutamente nulla di quello che sta succedendo, non sa della proposta dei sindacati di tenere ferma l'occupazione e quindi di garantire i posti occupazionali con gli ammortizzatori sociali, con i contratti di solidarietà, con le casse integrazioni. Noi chiediamo l'incontro al Patriarca non solo per l'importante ruolo, essenziale ruolo che lui riveste all'interno del nostro territorio ma soprattutto perché è componente del Consiglio di Amministrazione. Quindi un intervento decisionale da parte sua per la salvaguardia dei lavoratori e delle loro famiglie e della conservazione del posto di lavoro. Dopo questo licenziamento i dipendenti sono terrorizzati. Il terrore è palpabile, nel senso che anche dopo l'ultima assemblea sindacale che abbiamo fatto i lavoratori sono stati intimati di non partecipare alle assemblee sindacali fatte fuori dal posto di lavoro perché la fondazione li ha minacciati di considerarli assenti durante il proprio posto di lavoro nonostante siano invece stati coperti da un'assemblea sindacale legalmente riconosciuta dallo statuto dei lavoratori. Trovo che la situazione è abbastanza imbarazzante perché mi potrei trovare io nel posto della mia collega che è stata messa in discussione e avendo già 35 anni di attività all'interno della fondazione vorrei riuscire a parer mio andare in pensione felicemente ma a questo punto ho delle difficoltà nel pensare che per me ci sarà un futuro roseo.